Ciao ragazzi e bentorni sul mio canale Oggi ragazzi siamo qui di nuovo con Cartino 23 Ragazzi, scusate, stavo facendo la di Panama Stavo facendo la di Panama E che va arrivando? Oggi ragazzi Ciao ragazzi Molto bene Oggi ragazzi cosa andiamo a fare? Allora, come sempre tutti i giorni stanno dando un po' di pack promo Come state vedendo adesso dal negozio E abbiamo questi 5 pack qui da 25k Che hanno 12 giocatori oro Di cui 3 rari Però prima di aprirli volevo farvi vedere anche la mia squadra Siamo in periodo di Weekend League Me la stanno giocando i ragazzi di X on Esports Che comunque trovate qui sotto in descrizione E questa è la formazione che stanno utilizzando per ora Formazione che ho fatto più o meno in live Ci sono state un po' di modifiche come avete visto In game è un 4-2-3-1 Con davanti Sheva, dietro Mané, Griezmann e Bale Cdc, i due Pogba, Kanté, eccetera eccetera Il resto lo vedete Sicuramente in settimana faremo un'altra live per sistemare Di nuovo la formazione, due premi della Division Rivals E della Weekend League Ma adesso visto che sto parlando troppo Voi volete vedere i pacchetti? Tati Tanto scommetto che nei commenti scrivono Ma come? Usi Griezmann cc? Eh, c o c Vabbè, sì 3, 2, 1 Questo è il primo pack Con gommito porti? Sì, sì Il pack... No, se esce walk out Tati Gommito pack Gommito pack Attenzione Non è walk out Però una bella lavagna di 85 Tati Sì, no Eh, ci dai Però... Vanaken Vanaken Vai l'audio Vanaken Tati Fa niente Lo scriviamo e lo mandiamo nella lista di poi giocatori che verranno utilizzati più avanti Qui possiamo scartare tutto Enrico Tati Non ce l'ho fatta Ok Lo premoci noi ragazzi Ti prego Enrico Dai Prossimo pack Nel 350 Five of points If you come Ok Ok Non è walk out Un match Va bene Una bella lavagna però Non siamo Quello Ma Al terzo Denis Suarez Dai Suarez Dai Questo l'ho trovato della Champions League tre volte Devo scartare Ovviamente Perché Dava zero Mai Luis Sempre Denis Eh sì Mai Luis Ciao Ciao Luis Mi chiamo Luis Questo lo apro io E qui E qui Deve uscire per forza Perché Io non la lavagna dai Non la lavagna Non dico Infatti non dico il walk out Ma la lavagna potente e poderosa Eh sì dai E vabbè dai TD brasiliano del PSG Oh dai Una volta costava questo Una volta si esultava questo giocatore Adesso le famesse si mette i tachi Dai Come si mette i tachi Eh non hai visto su Instagram Ho fatto il video con i tachi Ma i tachi se li mettono solo Le donne Però si mette i tachi Eh vabbè Allora Un ciao Di tre anni Non c'era di base No Perché c'era di base Mi ha visto Di balamasca Mi ha visto Harry di balamasca Harry di balamasca No Un walk out No Un walk out Ma la lavagna Dai l'85 Tedesco Portiere Dell'Arsen E io 84 84 Gigi Pettatino No Tati Già Allomeno Già E' uscito Qualche cosa Ok 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 Direi che Va bene Dai guarda quanti doppioni C'ho addirittura doppione Prossimo pacchetto Signore Ed ultimo 25.000 Credito Ok Ok Bello Bello Braif Braif Si Mentre Braif Braif E' la lavagna 85 Francese Dici Laporte Laporte Dove essere Fabinho Se era Fabinho 70.000 Eh Erano buoni Com'er pane Quelli Com'er pane Qui facciamo i 300k 350 Adesso facciamo Facciamo un milione Così Una motta Eh E' un po' difficile Che lo lascio sulla sedia Dal gaming Così possiamo esultare Esattamente Non hai trovato Eh si Chi è? Un monguayano Portiere Muslera Muslera Beh comunque Henry Ce l'abbiamo fatta Fare 3k Perché scarto Tutto quanto Per arrivare a 3k Per essere sicuro 302k Ma Ti ricordi lo scorso Che andavo a spacchettare Come animali Su Food Galaxy Si mi ricordo Quest'anno ha cambiato nome Come si chiama? Si chiama Food Gamer Come Fuse Gamer Esatto E quindi Andiamo a spacchettare lì Ok ragazzi Siamo qui su Food Gamer Per spacchettare come animali Conoscete tutti il sito Comunque Quando entrate E vi dico subito Che per chi si registra Con il link Che trovate qui sotto In descrizione Avrà un pacchetto Gratis Che potrete chiaramente Aprire e riscattare I crediti Ritirarli sul vostro account Comunque potete O depositare i crediti O ritirarli Come vedete qui abbiamo 2.800.000 Qui c'è il vostro Account Insomma Con le vostre info Insomma Bonus Benvenuto Tutte queste cose qui Che fate insomma Con il vostro account Qui ci sono le best Andiamo a chi gioca Questa settimana Vai Udinese Juve Stati stasera Allora io direi Puntiamo sulla Juve Stati puntiamo sulla Juve Puntiamo Milione 500k sulla Juve Tati Vai Place bet Vai Ok Ok Abbiamo puntato mezzo milione Di crediti sulla Juve Stati stasera Juve non vinci Di dove ti ammazzo Te lo giuro Poi Prima di andare a vedere i pack Vi faccio vedere il jackpot Che praticamente Voi si depositate Tipo Depositiamo 10k Noi partecipiamo adesso All'asta Tra virgolette Quando si riempie Ne viene sorteggiato Uno Tra tutti quelli Che hanno partecipato E poi Vince tutto Ok Ho capito Comunque Adesso sono solo i tre Andiamo a spacchettare Come animali Pack da 100.000 Meglio qua Si possono abbrire Cavolo Bello Socrates L'importante è che facciamo Il Coso positivo No Vabbè Mi ha perso 9k Fa niente Ok Wesley Paie Socrates Che prima abbiamo trovato Want to watch Ero Musa Dai Diciamo che si è Entrato Nella carta Eh si È entrato nel personaggio Dai 115.000 Abbiamo recuperato quelli di prima Sì GG GG Ok Alouso Roberts Gonzalo Gonzalo Superate 100.000 Va bene Esatto L'importante è guadagnare sempre più Di quello che spendete Esattamente Quindi 20k Nakaima Bello troverei che si allarga Alvaro Filippo Bello Carmonenco Come sei A vero 102 Cazzo me ne frega come sono fatte i catti L'importante è che io sto sempre in positivo La mela Miranda Cavacic Urca Con Giorgio Abbiamo 113 11k Esatto 11k Anche qui Bello Giorgio Ghellini Bella 11k Le mare Sommer Wesley Dai Dai Questo è buonino Un 30.000 di guadagno Ci sta Grazie a Le mare Ci sta che non è male Esatto Cristiano Ronaldo E Oh Cristiano Ronaldo E Oh 100 Platan Viene niente Quest'anno 5k 5k Ibrahimovic C'è un'anni fa Che costava mezzo milione all'inizio subito Perché c'era l'SBC Tipo Mamma mia Draxler Meunier Che anche meunier E' un bel giocatore 118 118 118 Chiamalo Chiamiamo Chiametutati Sì Oh 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 Madonna Subito così Bella 616000 616000 Pap pa pa Pap Chiam евropa Esatto Invece ha detto No glielo facciamo uscire Così non lo chiamiamo Bravo tortured Grande Dimitri Pagli Pagli Ho trovato anche io Egli sulle mani E check Perché in sto gioco C'è vero che si guadagna C'è vero che si perde Ma bisogna sapere Quando fermarsi Giusto Come tutti Isatamente Come in tutti i giochi Quindi qui stiamo perdendo Vabbè Sì Comunque mi fermo Meglio Per sicurezza Quindi ragazzi fermatevi quando vincete mi raccomando se volete registrarvi a Foodgamer trovate il link qui sotto in descrizione, c'è anche un contest su Twitter vi lascio sempre il link qui sotto in descrizione ovviamente seguiteci tutti quanti su Instagram e iscrivetevi a tutti i canali alla Mbappé o alla Girù ho anche Bernardeschi è Lewandowski anche Bernardeschi fa così pure però Lewandowski così quindi ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace un bel commento, iscrivetevi al canale noi ci becchiamo un prossimo video bene ragazzi con la D-Bara Masch